Sull'assestamento possiamo dire che la discussione è stata breve e ha preso atto di risultati positivi che derivano dal fatto che abbiamo messo in pareggio i nostri conti, assorbendo quindi tutti i debiti fuori bilancio maturati da gennaio a maggio con maggiori entrate e con i risultati di alcune sentenze favorevoli. Ma il dato vero è che questo nostro assestamento si accompagna alla prima approvazione al Senato di un emendamento importante che fa sì che i piani di rientro per il Comune di Napoli come per tutti i Comuni vengano valutati rispetto al raggiungimento dei risultati alla fine dell'arco temporale individuato e non anno per anno con il rischio per una piccola difficoltà di mandare un Comune in dissesto. Ma soprattutto è il preludio ad un intervento più consistente che stiamo discutendo con alcuni autorevoli rappresentanti del Governo che è finalmente un intervento sugli enti locali. Gli enti locali hanno pagato in questi anni per 40 miliardi la tenuta dei conti italiani. I cittadini ne hanno sofferto, i cittadini napoletani come i cittadini torinesi e di altri Comuni occorre invertire questa tendenza. Noi siamo a disposizione con un buon Governo, una buona amministrazione, con idee proposte e siamo pronti alla collaborazione istituzionale più feconda possibile.